Sorriso contagioso solo con acqua e sapone, risparmi assortimenti e qualità per una spesa facile e completa. Scopri le offerte del giorno e dedica il tuo tempo a ciò che hanno. Ace in super offerta da acqua e sapone. Ace detersivo liquido nel formato da 3 flaconi per 38 lavaggi a 9,99€. Ideale per un bucato pulito e profumato a lungo. E prova anche ace candeggina da 3 litri a solo 1,99€. 1,99€ igienizza a fondo tutta la casa e sbianca e protegge il tuo bucato bianco. Capelli sempre forti e nutriti c'è Pantene. Lo shampoo della linea Pantene lunghezza infinite a 2,39€. E per capelli tre volte più forti non perdere la nuova limited edition Pantene Miracle per Emily in Paris. Lo shampoo è a 4,99€. E solo da acqua e sapone con due prodotti Pantene in omaggio a una fantastica ampolla. Fare la spesa da acqua e sapone fa bene all'umore. Perché sorriso e risparmio sono una coppia inseparabile. Acqua e sapone oltre la convenienza.